Continuano le proteste dei movimenti No Green Pass. Oggi è la volta degli studenti che hanno promosso la manifestazione e si sono trovati in piazzale Europa sotto l'università. In realtà di studenti ce n'erano pochi. A presenziare all'evento i soliti volti visti ad altre manifestazioni contro il certificato verde. Ad ogni modo il presidio portava all'attenzione il diritto allo studio per scuole e atenei senza discriminazione. Un centinaio o poco coloro che hanno aderito al ritrovo. Sul posto erano presenti anche polizia, vigili urbani e carabinieri per garantire che il tutto procedesse in sicurezza. A prendere la parola tra i relatori il dottor Paolo Bellavite, medico ematologo, e il magistrato Paolo Sceusa. La manifestazione è iniziata alle 15 e si è conclusa alle 18.